ben trovati spettatori e spettatrici di senza confini il mondo cambia cambia il mondo ben trovato padre francesco ben trovate a voi oggi leggiamo il dodicesimo capitolo degli atti degli apostoli nella prima parte ascoltiamo dell'arresto di pietro e della sua liberazione miracolosa ascoltiamo non sergio di nanni in quel tempo il re erode cominciò a perseguitare alcuni membri della chiesa e fece uccidere di spada giacomo fratello di giovanni vedendo che questo era gradito ai giudei decise di arrestare anche pietro erano quelli i giorni degli azimi fatto locaturare lo gettò in prigione consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la pasqua pietro dunque era tenuto in prigione mentre una preghiera saliva incessantemente a dio dalla chiesa per lui e in quella notte quando poi erode stava per farlo comparire davanti al popolo pietro piantonato da due soldati e legato con due catene stava dormendo mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il carcere ed ecco gli si presentò un angelo del signore e una luce sfolgorò nella cella egli toccò il fianco di pietro lo destò e disse alzati in fretta e le catene li cadero dalle mani e l'angelo a lui mettiti la cintura e legati i sandali e così fece l'angelo disse avvolgiti il mantello e seguimi pietro uscì e prese a seguirlo ma non si era ancora accorto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo credeva infatti di avere una visione essi oltrepassarono la prima guardia e la seconda e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città la porta si aprì da sé davanti a loro uscirono percorsero una strada e a un tratto l'angelo si dileguò da lui pietro allora rientrato in sé disse ora sono veramente certo che il signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei dopo aver riflettuto si recò alla casa di maria madre di giovanni detto anche marco dove si trovava un buon numero di persone raccolte in preghiera appena ebbe bussato alla porta esterna una fanciulla di nome rode si avvicinò per sentire chi era riconosciuta la voce di pietro per la gioia non aprì la porta ma corse ad annunziare che fuori c'era pietro tu vaneggi le dissero ma essa insisteva che la cosa stava così e quelli dicevano è l'angelo di pietro questi intanto continuava a bussare e quando aprirono la porta e lo videro rimassero stupefatti egli allora fatto segno con la mano di tacere narrò come il signore lo aveva tratto fuori dal carcere e aggiunse riferite questo a giacomo e ai fratelli poi uscì e si verso un altro luogo fatto sigiorno c'era non poco scompiglio tra i soldati che cosa mai era accaduto di pietro erode lo fece cercare accuratamente ma non essendo riuscito a trovarlo fece processare i soldati e ordinò che fossero messe a morte poi scese dalla giudea e soggiorno a cesarea padre francesco intanto ti chiedo un'indicazione tecnica quali sono i giorni degli azimi sì qualcosa che viene descritto nel libro dell'esodo fa riferimento alla alla pasqua originale cioè al passaggio del mar rosso in cui viene prescritto che per sette giorni non deve essere mangiato panni e livitato quindi diciamo che la settimana che va dal 15 di nissan al 21 il mese di nissan è il primo mese dell'anno secondo il calendario lunare degli degli ebrei e che corrisponde al diciamo all'intervallo che va tra il mese di marzo il mese di aprile tant'è che nella pasqua come è noto capita sempre dopo la luna piena di primavera cioè la prima luna piena di primavera che capita appunto a cavallo tra marzo e aprile i discepoli pietro compreso sono vittime di nuove persecuzioni quale sorte sarebbe toccata pietro se non fosse intervenuto l'angelo probabilmente sarebbe stato messo a morte senza senza problemi perché prima di lui viene messo a morte uno dei due figli di zebedeo no parte così il capitolo e perché c'è una recludiscenza sicuramente della delle delle persecuzioni che comunque accompagnano la storia della chiesa dalle origini e vanno avanti fino alla 312 313 finché non si sta ora costantino come imperatore romano quindi di fatto non si vede perché pietro avrebbe dovuto subire una sorta di favore anche se chiaramente la figura di pietro rispetto alla figura anche di giovanni o di altri apostoli sicuramente una figura più di spicco quindi avrebbe dovuto essere trattato con maggiore cautela diciamo così ma sappiamo anche che poi pietro stesso non era martire quindi poi sta cautela insomma è semplicemente una questione che può essere letta in analogia con quella di gesù stesso anche gesù cioè se prendiamo per esempio il vangelo di lucca lui inizia la sua vita pubblica con la lettura della parola di dio la seconda lettura nella sinagoga di nazareth dopodiché quel brano capitolo 4 vangelo di lucca si chiude dicendo che i suoi concittadini lo portano sul ciglio della della montagna al precipizio per buttarlo giù cioè già dal primo giorno vogliono fare fuori ma non ci riescono perché di fatto come giovanni più volte fa notare non è ancora giunta la sua ora quindi non è poi l'uomo non sono gli uomini che gestiscono il progetto piano di dio al di là di tutto ma è dio stesso che muove le sorte della storia in analogia probabilmente con quel discorso di fatto possiamo leggere anche la storia di pietro anche degli altri discepoli tant'è che se leggiamo bene questo capitolo degli altri apostoli ci accorgiamo che ci sono molte analogie con la storia proprio di gesù intanto appare rode di nuovo che ritroviamo appunto nella storia di gesù di giovanni battista ma che poi fa una brutta fine alla fine del capitolo ma poi anche là vediamo l'arresto di pietro e l'angelo che gli appare e l'angelo che ritroviamo nel momento della resurrezione l'angelo che gli dice alzati quell'alzati è il verbo della resurrezione quindi ci sono delle analogie sicuramente che vanno tenute in considerazione rispetto alla sorte che è toccata al maestro hai detto dio muove le sorti della storia allora ti chiedo qual è il senso storico delle persecuzioni ma non è che dire che dio muove le sorti della storia non non significa poi dire che all'uomo non rimane la libertà diciamo no nel senso che sicuramente non è lui che vuole il male non è lui che vuole che l'uomo agisca male ma lui ha lasciato la libertà lascia la libertà a ognuno di noi e con quella libertà che è un'arma potente di fatto noi possiamo decidere di fare il bene piuttosto che fare il male quello che però il ferrugio diciamo della scrittura è che nonostante il peccato dell'uomo nonostante l'uomo si sia opposto cerchi di opporsi tante volte alla logica di dio poi dio trova il mondo di portare avanti il suo progetto il suo piano c'è questa compresenza da un lato la libertà che rimane all'uomo e con quella libertà l'uomo continua come se cercasse di riportare l'uomo sempre sulla retta via sì cioè certe volte sembra quasi che lo rincorra oppure lo previene pensate a quanto succede con il peccato originale cioè quel peccato originale che porta alla condanna dell'uomo e della donna in qualche modo non porta a un discorso di chiusura di rottura definitiva tra dio e l'uomo e dio trova il modo e quindi deve intessere un progetto un piano per ricostituire quella quella quell'unità quella quella armonia che il peccato ha rotto nella scorsa puntata abbiamo parlato del discernimento di pietro che nel passo che abbiamo ascoltato è riproposto pensando ad oggi sabino chialà scrive che nel magistero di papa francesco l'esigenza del discernimento ha ritrovato il suo spazio ecclesiale provocando anche qualche inquietudine perché indica un cammino esigente e che impegna coscienza e ascolto sei d'accordo? sì bisogna vedere perché provoca queste inquietudine? perché diciamo l'ho detto più volte se tu devi risolvere un problema che non so devi fare una torta di mele per dire vai ti leggi le ricette poi magari chi la fa in un modo chi la fa in un altro ti uscirà più o meno bene però quella è la ricetta cioè parti da un qualche cosa che già è è stato sperimentato è precostituito e c'è una tradizione discernere implica prendere delle decisioni su una realtà che è diversa da quella precedente e sarà sicuramente unica rispetto anche a tante cose che verranno dopo quindi prendere delle decisioni su delle situazioni concrete non è la stessa cosa che andare a trovare una ricetta applicarla per risolvere un problema perché lì la ricetta te la devi costruire non so se è chiara la questione e quindi è chiaro che questa roba ti mette inquietudine perché tante volte il pastore per esempio che è chiamato a discernere che cosa deve fare tante volte è preso da una marea di dubbi e qui c'è una differenza sostanziale che Alan non ne parla ma c'è una differenza sostanziale tra quello che avviene nell'epoca o mentre la Chiesa cammina cioè si mette in moto con i suoi primi passi quindi l'epoca che stiamo analizzando quella degli atti degli apostoli è la nostra epoca la nostra realtà se tu diciamo osservi bene e leggi bene gli atti degli apostoli ti accorgi che c'è una presenza massiccia dell'opera dello spirito sì dopodiché anche qua l'esperienza che sta dietro la descrizione chi te la può descrivere realmente cioè certe esperienze puoi provare sono talmente intime coinvolgenti eccetera che puoi provare a descriverle ma la descrizione non sarà mai sufficiente a a a a rendere il senso di quello che è davvero avvenuto no? per esempio abbiamo parlato di Cornelio che va a casa di 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 cioè scusami di Pietro che va a casa di Cornelio e vede lo spirito santo scendere su Cornelio e la famiglia questo vede che cosa è come come avviene cioè che 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 vede lo sente lo sente che che cos'è oppure quando parli di di Paolo che sulla strada di Damasco vede questo signore risorto che gli appare lo sente parlare poi lui stesso dirà sembra capito 23 che gli altri videro il bagliore ma non sentono la voce quindi questa esperienza di fatto come come si è davvero manifestata questo bu non lo sappiamo perché alla fine è è un qualcosa che riguarda l'individuo ed è difficile anche da mettere per iscritto cioè da formulare in un qualche modo però noi vediamo che c'è una presenza forte costante dello spirito una presenza forte costante tra virgolette invadente o invasiva che oggi non c'è più cioè che oggi non si manifesta come mai ci si potrebbe chiedere se è spenta la forza dello spirito o spirito santo si è scocciato di di agire di operare ti sei dato una risposta no sì la risposta potrebbe essere questa chiaramente non c'ho anche qui io la rigetta ma c'è una differenza sostanziale tra l'esperienza di Pietro e degli apostoli che muovono i primi passi e la nostra esperienza di fede cristiana noi abbiamo duemila anni di storia alle spalle quindi abbiamo una tradizione c'è una storia che che consolida delle prassi quindi non c'è bisogno ogni volta dell'intervento massiccio dello spirito perché perché in effetti a certe logiche di discernimento ci potremmo arrivare anche ragionandoci sopra cioè tenendo conto della di quanto è avvenuto in passato cioè di quello che è successo in passato tenendo conto della 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 storia che diventa maestra di vita c'è sempre questa storia che che poi è vera fino a un certo punto ma noi siamo avvantaggiati nel nel lavoro del discernimento perché abbiamo un'esperienza che ci aiuta a leggere meglio in teoria ci aiuta a leggere meglio gli eventi che viviamo una delle dimensioni del discernimento è quella dell'ascolto l'ascolto di sé e l'ascolto degli altri e questo oggi non è facile cioè ascoltarsi e ascoltare non è facile nell'epoca tra l'altro in cui viviamo delle distrazioni continue basti pensare alla distrazione che ci provoca lo schermo dello smartphone o le notifiche dei social network o lo schermo tante volte di un di un televisore quando non siamo consapevoli di ciò di ciò che vediamo dei programmi di cui fruiamo qui bisognerebbe essere chiaramente io non faccio lo psichiatra lo psicoterapeuta non sono esperto in materia però bisognerebbe essere molto franchi su questo aspetto come faccio a capire l'altro in generale cioè io posso capire te posso capire chi mi sta di fronte se sono in grado di rileggere la tua esperienza quello che tu mi racconti calandola nella mia esperienza di vita parliamo in questi periodi in questi tempi dell'ascolto che 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 uno degli aspetti del del cammino sinodale dobbiamo ascoltare gli altri e la domanda è come si fa ad ascoltare gli altri effettivamente se non siamo abituati se non siamo in grado di ascoltare noi stessi il problema è proprio questo che diventa uno slogan poi quel discorso di ascolta l'altro che non porta da nessuna parte proprio perché noi non siamo molto avvezi ad ascoltare noi stessi non siamo avvezi a stare con le nostre emozioni con il nostro intimo con il nostro interiore con il nostro io interiore soprattutto quando quell'io interiore mi porta ad avere a che fare con delle cose che non mi piacciono e noi scappiamo fuggiamo cerchiamo di scappare cerchiamo di fuggire non siamo in pace con noi stessi tant'è che qui ci sarebbe un discorso enorme da poter fare ma sarebbe interessante c'è il terzo comandamento che suona così ricorda di santificare le feste ma in realtà se lo andiamo a sviscerare bene quel comandamento quel comandamento è un invito ad entrare nel luogo di riposo e tanti di noi non riescono ad entrarci nel luogo di riposo non vedo l'ora che arriva domenica per dire sabato che lavora soltanto fino a venerdì così mi riposo poi tu vedi arrivare le persone lunedì mattina che sono più stanche stressate incavolate del venerdì che era l'ultimo giorno di lavoro e dice come mai succede questo succede questo perché tu cerchi di sfuggire a te stesso cerchi di sfuggire a tante cose che non ti piacciono non funzionano e quindi quel momento di riposa diventa un momento di fuga un momento in cui ti stressi ancora di più e non riesci ad entrarci in quel riposo non riesci a farlo perché tu non riesci a fare pace con la tua vita con quello che fai con quello che vivi che in un qualche modo non riesci a benedire è una maledizione continua quella che tu poni in essere e cerchi di sfuggire da quella da quella maledizione correndo questa corsa ti porta a stressarti ancora di più finché tu non ti fermi e incominci a guardare la tua storia e incominci a benedire la tua storia a dire bene di quella storia tu non entrerai mai nel luogo da riposo e per fare questo hai bisogno di fermarti ad ascoltarti cioè fermarti a guardare quello che è dentro di te perché quello che hai dentro di te non è né brutto né bello ma sei tu e da te stesso non puoi scappare a proposito di questo nel nostro telegiornale nei nostri telegiornali abbiamo raccontato la storia di Fulvio che da ex detenuto è diventato chef quindi ha cambiato ha cambiato vita una storia forte l'ha fatto grazie a Don Raffaele Sarno lo conosciamo è cappellano del carcere di Trani e lui diceva ha ammesso Don Raffaele ho praticato l'ascolto l'ascolto significa vicinanza all'altro ho dato come dire la possibilità di scoprire che esiste un riscatto sociale esiste una possibilità una possibilità attraverso la conoscenza attraverso lo studio attraverso la passione attraverso la scrittura ma sì però quello Luca quello che è importante far capire che io posso cioè anche qui il cappellano può ragionare in questi termini nel momento in cui questa roba se la fa risuonare dentro di sé perché tu non puoi uscire da te stesso no la tante volte usiamo due termini qui uno è l'empatia e l'altro è la simpatia dove dove con simpatico non si intende quello che intendiamo noi normalmente nella cioè simpatico è un tipo allegro insomma fa battute eccetera ma il vivere il dolore la sofferenza quello stato con è colui che patisce con e dove anche quel patire non ha un senso soltanto negativo cioè è colui che potremmo dire vibra insieme all'altro cioè vibra all'unisono con l'altro cioè fa 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 mette in in oscillazione le sue corde insieme a quelle dell'altro l'empatia di cui si parla sempre è una cosa impossibile da fare perché l'empatico è quello che entra nell'altro io patisco nell'altro io non posso uscire da me stesso continuiamo a usare questi termini senza manco sapere che cosa diciamo l'empatia non può esserci quella che può esserci è la simpatia cioè io riesco a capire l'altro nel momento in cui capisco me stesso nel momento in cui tocco le corde del mio intimo se io questa roba non la faccio non vado da nessuna parte perché tante volte si dice che una persona che non è stata amata non sarà mai capace d'amare perché se tu alla fine non hai vissuto vissuto quell'esperienza e quindi non l'hai fatta tua sarai incapace di comprenderla nel rapporto con gli altri no è chiaro che spesso intendiamo l'ascolto come una dimensione unidirezionale in realtà parte da noi e questo è chiaro ora intanto ascoltiamo il passo in cui si racconta della morte del persecutore e non solo egli era infuriato contro i cittadini di Tiro e Sidone questi però si presentarono a lui di comune accordo e dopo aver tratto alla loro causa Blasto Ciambellano del Re chiedevano pace perché il loro paese riceveva i viveri dal paese del Re nel giorno fissato Erode vestito del manto regale e seduto sul podio tenne loro un discorso il popolo acclamava parola di un Dio e non di un uomo ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato gloria a Dio e rosso dai vermi ispirò intanto la parola di Dio cresceva e si diffondeva Barnaba e Saulo poi compiuta la loro missione tornarono da Gerusalemme prendendo con loro Giovanni detto anche Marco in questo passo c'è una scena macabra perché Dio non concede a Erode la possibilità della conversione tra l'altro quella tra Dio Erode una regalità impari diciamo sì non è che non gli concede gli è stata concessa non gli è stata richiesta tante volte alla fine c'è c'è il tempo della mia ditura lo dice lo dice Gesù cioè la pazienza poi ha un termine ha un limite non tanto perché quella di Dio è limitata ma perché di fatto il nostro tempo è limitato quindi ti vengono date tante possibilità tante occasioni ma se tu quelle occasioni quelle possibilità continui in un qualche modo ad ignorarle per te non c'è non c'è speranza non c'è salvezza abbiamo appena ascoltato questo questo discorso dove c'è l'arroganza ennesima di Erode che in un qualche modo diventa diventa incorreggibile ascoltavo l'ennesima testimonianza che mi aveva fatto a proposito dei generali di Hitler per la questione della giornata della memoria della Shoah eccetera si parlava della fine che molti di questi hanno fatto molti sono stati diciamo condannati e quindi addirittura insomma giustiziati eccetera ma il commento del giornalista che diceva che raccontava per l'ennesima volta questa storia era quello di dire nessuno di essi si è mai pentito di quello che ha fatto e questa è la cosa drammatica cioè tu sei scappato cercato di scappare sei arrivato in carcere eccetera sul sul patibolo addirittura e ci sei arrivato convinto che quella cosa che hai fatto era fatta bene davanti a sta roba non c'è redenzione cioè non c'è possibilità cioè io paragono permettimi forse è improprio però paragono questo comportamento di Erode al comportamento di queste persone oppure di tanti di tanti serial killer o di tanti omicidi che alla fine sono convinti fino alla fine si convincono profondamente che quello che hanno fatto è stato fatto bene paradossalmente ci sono delle convinzioni pensate a quelli che sul letto di morte col covid che se li sta mangiando rifiutano le cure e si levano le mascherine del respiratore che ci vuoi fare davanti a questa a questi modi a questi comportamenti la logica o le logiche umane sono strane diciamolo così però se tu rifiuti nella tua libertà e questo poi l'estrema conseguenza della libertà che viene data all'uomo penso che non ci sia nulla da fare ti chiedo questo quindi non è diciamo un una non volontà di Dio a concedere ma è la constatazione che quella persona ha scelto definitivamente un'altra strada cioè non c'è possibilità di redenzione ma non perché è Dio che non la vuole dare ma perché è l'uomo che non se la dà più ti chiedo questo la dimensione del pentimento è una responsabilità come dire sociale è chiaro che l'uomo che ha commesso un errore che ha commesso un reato ha come dire diciamo una sua responsabilità ma è compito della società far capire che quello è un errore cercare come dire di convertirlo anche se chiaramente il termine conversione attiene più a argomenti di tipo religioso cioè far cambiare vita sì no no cioè il pentimento è una responsabilità anche sociale il pentimento dell'altro sicuramente sì anche se la responsabilità rimane in carica all'individuo ci sono però degli atteggiamenti dei comportamenti sociali che in un qualche modo portano l'individuo poi a fare delle scelte in un certo caso lo obbligano in certi sensi lo obbligano pensa per esempio che ne so alla segretaria di uno studio commercialistico che è obbligata a stilare dei documenti che non sono in linea con le norme fiscali faccio un esempio altrimenti perde il lavoro quindi ci sono degli atteggiamenti sociali distorti che ti portano poi ad agire in maniera distorta e quindi creano anche mentalità distorta perché poi qualcuno pensa che fare in quel modo possa essere giusto possa essere corretto come lo scugnizzo napolitano per dire diciamo che è abituato a sentirsi fico sentirsi carino simpatico bravo perché è in grado di aprire le portiere di una macchina magari addirittura a rubare pensa che quella cosa sia una cosa buona perché il padre le sue figure di attaccamento primario che sono i genitori i suoi riferimenti fondamentali gli hanno detto che si deve fare così quindi ci sono delle responsabilità sociali come ci sarebbero delle responsabilità sociali nel momento in cui uno sbaglia dovremmo essere in grado di aiutare esistono questi istituti di correzione che dovrebbero essere le carceri per dire dovrebbero essere dei riformatori cioè dei luoghi in cui riformare o aiutare le persone a riformulare i loro valori e le loro coscienze secondo uno spirito civico condiviso sappiamo che siamo molto lontani da questa cosa qui quindi di fatto sì c'è una responsabilità sociale da questo punto di vista però rimane sempre il fatto che a meno che una persona non sia in grado di intendere di volere oppure che non abbia alcun margine di libertà nell'azione che compie di fatto rimane sempre una responsabilità individuale in capo all'individuo che compie appunto quel crimine quel peccato e che non può essere scaricata totalmente sulla realtà sociale non so io in realtà quando parlavo di responsabilità sociale non facevo solo riferimento agli istituti penitenziari ma mi riferisco anche alla responsabilità che ha ognuno di noi cioè ogni cittadino comportarsi bene vivere bene vivere in maniera giusta in una società quindi anche con dei valori può essere come dire da modello per per l'altro cittadino che ha sbagliato o che è in procinto di di sbagliare ma è complicata sta storia perché poi alla fine la dicevo l'individuo comunque ognuno di noi si forma una sua coscienza almeno basilare a partire da quello che vive all'interno di casa sua e a seconda del credo dei suoi genitori e quindi che per il che per il ragazzino sono appunto queste figure di attaccamento primario così le definisce la psicologia contemporanea che sono anche insostituibili per tanti versi a secondo di quello appunto che lui poi introietta lui poi sarà in grado di leggere più o meno in maniera tra virgolette corretta la realtà che ha davanti se uno impara che è normale buttare che ne so l'immondizia per strada dall'auto a voglia che tu metti le multe eccetera basta andare in giro e ti accorgi di quanto siamo lontani da questa cosa che è un segno di inciviltà estrema eppure tanti di noi non non la vivono per nulla in questo modo capito per concludere questa prima parte so che il nostro ospite è già in linea padre francesco Barnaba e Saulo ritornano ad Antiochia e quindi la narrazione ritorna a concentrarsi sulla missione dalla persecuzione alla missione sì perché poi di fatto questa persecuzione diventa anche vedi qui c'è sempre c'è sempre un doppio modo di leggere la realtà anche nella situazione più cupa più più scura la pandemia è una di queste per esempio anche la situazione più cupa può diventare occasione proprio la persecuzione proprio la non accoglienza del messaggio da parte di chi avrebbe dovuto accoglierlo fa sì che quel messaggio diventi un messaggio universale la chiesa primitiva ha vissuto questo slancio oggi facciamo molta più fatica invece a cogliere le occasioni che ci si presentano davanti e su questo bisognerebbe riflettere grazie come sempre padre francesco ora apriamo la seconda parte di questa puntata ospite con noi in collegamento skype monsignor antonino raspanti vescovo di acireale intanto ben trovato e grazie per aver accolto il nostro invito grazie a voi per avermi invitato grazie lei è vicepresidente della conferenza episcopale italiana per il sud Italia per la chiesa del nostro paese il 2022 è un anno delicato visto che oltre ai vari fronti su cui è impegnata c'è anche il rinnovo delle cariche della CEI che bilancio fa di questo quinquennio? è stato un quinquennio con la presidenza del cardinale Bassetti e poi abbiamo cominciato questo quinquennio con la segreteria di Monsignor Galantino e successivamente è quella di Monsignor Russo io non riesco a fare un paragone con prima mi sembra di poter dire però che la partecipazione e il funzionamento degli organi collegiali a partire da noi vicepresidenti che formiamo il consiglio di presidenza e successivamente consiglio permanente della CEI via via a cascata ai vari uffici ai vari comitati della conferenza episcopale italiana penso di poter dire che c'è stata una partecipazione più intensa una condivisione delle scelte pensiamo soltanto al 2020 e il 2021 che cosa ha significato in tempi di lockdown noi facevamo degli incontri quasi settimanali ovviamente online ma poi appena è stato possibile da fine maggio del 20 siamo tornati in presenza abbiamo viaggiato quando il fiumicino era vuoto c'eravamo pochissime persone perché abbiamo dovuto dare per così dire delle linee guida all'intera chiesa nazionale dialogare col governo col comitato nazionale tecnico scientifico anche per il covid e poi raccogliere lentamente le crisi nelle quali versavano molte delle nostre del RSA o del nostro sistema sanitario le parrocchie le caritas è stato un continuo le scuole cattoliche è stato un continuo bombardamento di messaggi in arrivo emergenze e tentare di capire come era possibile dare delle linee indicative che non ci facessero rimanere distanti dal popolo dalla gente anche secondo quello che ci diceva continuamente Papa Francesco e noi della gerarchia che talvolta eravamo appunto chiusi nel nostro nel nostro palazzo o comunque poco potevamo fare siamo stati molto contenti nel vedere come una mobilitazione del volontariato è stata veramente straordinaria ma anche nel momento in cui si sono aperti piano piano diciamo i catenacci per esempio l'ultima settimana sociale vissuta a Taranto alcuni mesi fa a ottobre è stata una partecipazione splendida c'erano quasi mille presenze tra cui più della metà erano giovani che significa mi sembra una grande voglia di non solo di ripartire ma di partecipare di esserci di discutere lì per sempre molto separato di transizione ecologica oltre che alla questione del lavoro dei giovani in Italia questa mi fa dire che pur con travaglio in epoca di grandi passaggi di numeri che un po' ballano si dice in discesa partecipazione alle sante messe domenicali calata oggettivamente calata ecco tra chiari o tra luce e ombre mi sembra che ci sia una discreta voglia di reagire di partecipare adesso soprattutto con l'introduzione del cammino sinodale della chiesa italiana che ci porterà fino a fine il 2025 è un cammino tutto da scoprire perché l'abbiamo appena aperto e stiamo appena approntando i punti di ascolto le persone che debbano ascoltare e debbano cominciare a registrare per così dire ciò che dice la gente il popolo di Dio ma anche chi è fuori dalla chiesa ritorneremo sul cammino sinodale tra l'altro proprio nel consiglio permanente ho letto abbiamo letto che vi siete molto concentrati sulla dimensione dell'ascolto nei confronti dei giovani ma eccellenza le chiedo la chiesa italiana del sud Italia la chiesa italiana del sud che situazione sta vivendo? naturalmente condivide il grande disagio del sud ahimè se ne parla poco nella grande stampa e dunque nel grande nel discorso pubblico dell'agora per così dire pubblica italiana se ne parla poco ma c'è non so se chiamarla ancora col vecchio nome classico di questione meridionale c'è un problema oggettivo di un sud che è sempre più sganciato dal centro e dal nord in termini sociali economici e culturali i numeri sono impietosi e soprattutto nel sud io vedo dalla Sicilia ma potrei dire ugualmente in Calabria nella Basilicata direi nella Puglia si assomma all'inverno cosiddetto demografico quindi calo delle nascite notevole o anche la Sardegna oltre questo c'è una fortissima emigrazione giovanile di tutti i tipi di giovani non solo il giovane che non titolato che appunto prende la valigia e se ne va al nord o all'estero ma soprattutto dei giovani titolati quindi con titolo di scuola di media superiore universitario o moltissimi che studiano per esempio i siciliani cremi la statistica dell'ultimo anno 50.000 giovani siciliani studiano in università italiane o straniere solo nel 2021 sono numeri da brivido perché per esempio appunto la Sicilia è scesa forse dopo il dopoguerra per la prima volta sotto i 5 milioni di abitanti siamo poco sotto i 5 milioni con lo spopolamento soprattutto delle aree interne e la stessa cosa vale per tutta la dorsale appenninica gli altri miei confratelli mi dicono che la dorsale appenninica si spopola un po' per il terremoto nel centro Italia un po' per la povertà o la mancanza di lavoro e di futuro dei giovani ora naturalmente le parrocchie siamo lo specchio non viviamo fuori da questa realtà faccio un solo esempio quando c'è stato qualche anno fa il famoso la riforma della scuola portata avanti mi pare dal governo Renzi se non ricordo male noi abbiamo perso dal sud tantissime catechisti oppure guide scout perché queste persone che erano laureate lavorichiavano facevano poca cosa per esempio nel mondo della scuola la buona scuola hanno trovato impiego per la mobilità eccetera hanno trovato impiego nel centro nord e dunque è crollato talvolta il numero dei catechisti il numero delle guide scout il numero degli educatori di azione cattolica dell'ACR e così via segno evidente che viviamo una stagione difficile anche perché di contro questo è un dato nazionale la fascia giovanile sotto i 30 anni 35 stenta a tornare a venire in chiesa a frequentare i nostri ambienti non solo per il mamessa eccetera ma anche per le attività di volontariato di catechesi di gioco di culturali non passa facilmente più dalle nostre parrocchie o dai nostri movimenti questo ci dice la famosa chiesa coi capelli bianchi coi capelli grigi cioè popolata cioè da persone come me che hanno ormai una certa età quello quello che dipinge è un ritratto come dire abbastanza abbastanza forte nella prima parte di questa puntata abbiamo parlato di finestre di speranza e allora le chiedo qual è la luce in fondo al tunnel esiste? sì credo assolutamente che esiste anzitutto perché la vicenda storica non la conduciamo noi ma appunto la nostra fede ci dice che lo conduce la provvidenza ovvero sia il disegno di Dio è comunque un disegno di salvezza che ci sia un cambio e che la forma la figura cioè il modo come la chiesa italiana e quella meridionale anche ma insomma tutta italiana stia cambiando e probabilmente tra dieci anni avrà un volto molto diverso da quello che è appresentato anche solo vent'anni fa o anche oggi questo è possibile come dobbiamo chiamarlo evoluzione cambiamento purificazione essenzializzazione della fede ma è così perché è cambiata la società e allora vedo però in tantissime parti sia vescovi sacerdoti molti laici la voglia di capire come da minoranza diciamo questo termine da minoranza e minoranza non soltanto numerica ma minoranza culturale minoranza cognitiva dicono alcuni cioè il nostro le nostre iniziative e il nostro pensiero le nostre stesse festività non sono più punti di riferimento per il vivere sociale italiano e in genere occidentale però ci sono famiglie giovani che sono profondamente convinti di poter portare avanti una vita secolare nelle professioni una vita normale ordinaria laicale di poterla portare avanti credendo e fermamente aderendo ai principi della sequela evangelica questo è il vero punto di non dico di rinascita ma di rilancio io non credo facilmente che possiamo prefiggerci un progetto di ricristianizziamo la società italiana cioè per farla tornare a 50 anni fa ecco secondo me se ci mettessimo in quest'ottica saremo poi fra qualche anno i primi ad essere frustrati perché andremo avanti con paragoni che guardano dietro di noi mentre noi dobbiamo guardare avanti e dobbiamo capire come essere ascoltatori profondi del Vangelo seminatori della parola di salvezza in Cristo Gesù che per noi è assolutamente non solo il figlio di Dio eccetera ma è il salvatore è l'unico salvatore della storia umana e dobbiamo cercare di capire come e in che modo in ascolto di chi ha il cuore retto di chi cerca di chi vuole camminare su questa terra facendo del bene osservando criteri di giustizia di verità di fraternità e mettendoci accanto a tutti coloro che cercano nel loro cuore profondamente con rettitudine la giustizia la verità la bontà la fraternità e la libertà e in tutto questo essere suscitatori di libertà di vita gioiosa di vita capace di affrontare anche i sacrifici le difficoltà perché attenzione non è che io mi prefiguro anche un futuro a prescindere da guardare il nostro territorio religioso non è che mi prefiguro un futuro dell'Italia di grandissimi rose e fiori non sto parlando di eventi che non potrei o berre altro per carità questo non sono in grado né di pensarlo né di dirlo ma oggettivamente parlando dal punto di vista socio-economico lavorativo o ci sbracciamo noi italiani e ci mettiamo a lavorare in un certo modo o l'enorme mole del debito che in qualche modo sembra che il PNRR adesso ci dà una boccata d'ossigeno ma relativamente perché la gran parte di questi soldi la dobbiamo restituire e un debito già gigantesco che ha la nostra nazione crescerà ancora di più ora questo non vuol dire che non saremmo in grado di superare questo questo debito o questo grande scalone ma significa che c'è bisogno che le nuove noi e le nuove generazioni ci mettiamo dentro con una mentalità molto diversa con la voglia di costruire con la voglia di eliminare sacche di corruzione di ritardi di incompetenze e questo non può che accadere anche all'interno delle nostre comunità delle comunità parrocchiali dei movimenti abbiamo sempre più bisogno di svegliarci e diventare coltivare da una parte la vera autenticità del Vangelo e dall'altra parte la vera fraternità cioè essere accanto all'uomo di oggi che ha le sue grandi angosce le sue grandi domande e noi con la gioia del Vangelo come dice Papa Francesco possiamo portare un vento di libertà un vento di un raggio di luce di speranza come le dice questo lo possiamo fare è perché ci sono molti giovani che vogliono vogliono farlo che stanno farlo che stanno mettendo in gioco la propria vita come le dicevo alle settimane sociali ho visto veramente centinaia e centinaia di giovani che erano portatori di migliaia a loro volta di giovani in tutte le parti d'Italia che volevano impegnarsi proprio nel campo della società del quotidiano e noi abbiamo bisogno che sia soprattutto il mondo laicale nella socialità quotidiana nel secolo quotidiano che abbia che si risvegli perché il Vangelo sia riportato nella vita della gente e non rimanga solo su libri o su un ecclesialese o su un circolo chiuso di mondi ecclesiastici o di sagrestia che sono alla fine infecondi Padre Francesco anche tu in quanto direttore di questa tv noti come dire un abisso tra il sud Italia e invece magari il modo di fare delle realtà nel centro Italia e nel nord Italia che esperienza hai? Sicuramente sono viviamo situazioni diverse io sono d'accordo su quello che dicevo prima sull'eccellenza ma stavo facendo una riflessione perché ho preso la licenza a Napoli in un'epoca in cui era fresco il documento che si è italiano in mezzogiorno mi pare che fosse dell'88 già all'epoca dicevamo che non basta scrivere documenti per risolvere i problemi oggi questa cosa è chiara diciamo c'è però all'interno calabrese di origine per certi versi la mentalità calabrese è molto più vicina a quella siciliana che non a quella pugliese e vedo che c'è ancora un grande fermento di giovani di gente che hanno sete di conoscenza cioè si approcciano anche alle nostre realtà hanno ancora fiducia nell'istituzione chiesa cosa che da altre parti non ci sta e questa è una cosa positiva su cui puntare però quello che credo che sia opportuno fare a livello generale è che la dobbiamo smettere di pensare di portare avanti la solita pastorale che è quantitativa tra virgolette bisognerebbe passare a una pastorale di qualità quindi trovare il modo di trasmettere dei valori e aiutare le persone che vogliono a crescere dal punto di vista umano dal punto di vista cristiano dal punto di vista sociale penso che pensavo che la chiesa nei secoli si è anche come dire sostituita a delle mancanze delle carenze sociali importanti oggi c'è una carenza fondamentale che è la carenza qualitativa basti pensare che cosa succede sul nostro piano politico nazionale infatti in questi giorni si è parlato tanto di carenza politica eh sì non perché bisogna tornare all'epoca della democrazia cristiana o dell'evangelizziamo tutti ma c'è bisogno di aiutare le persone a diventare persone che ragionino con la loro testa che siano in grado di non solo di farsi portatori di valori ma che possano in questa fase di difficoltà anche aiutare la realtà a trovare delle soluzioni e forse su questo noi dovremmo investire eccellenza come procede il cammino sinodale nella sua diocesi lei tra l'altro è stato vicepresidente del comitato preparatorio del convegno ecclesiale di Firenze quello del 2015 momento in cui il Papa ha ribadito la necessità di un sinodo in Italia sì 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 ricordo bene quando venne a Firenze lui quello splendido discorso che tutti prendemmo come una sorta di applicazione dell'Evangelii Gaudium e carta programmatica della Chiesa Italiana per i prossimi anni esatto nella mia diocesi va esattamente in linea con i tempi e i modi indicati sul piano nazionale cioè scelte le persone che fanno da referenti e creano un piccolo gruppo una piccola equip animatrice sul piano di Ucisano addestrate queste persone sul piano nazionale per capire come dovevano muoversi abbiamo cominciato a diffondere nei vicariati e in singoli parrocchie o in singoli movimenti a fare incontri con le persone che a loro volta sono quelli che debbono poi creare i gruppetti sinodali cosa che dovrebbe avvenire esattamente fra un paio di settimane si darà il via a tutti questi punti di ascolto disseminati in tutte le parrocchie della diocesi perché venga raccolta appunto ascoltato in base ad una griglia di una decina di linee di punti che provengono sia dal sinodo quello dei vescovi quello universale sia da una precisa applicazione che abbiamo fatto noi chiesa italiana abbiamo già fatto sempre nella mia diocesi esperimenti di sinodalità cioè di ascolto sinodale in base appunto a quella griglia di domande l'abbiamo già fatto con il consiglio presbiterale con il consiglio pastorale diocesano con i direttori degli uffici pastorali della diocesi proprio esercitandoci quasi noi per partire per capire come si fa e così via dunque siamo nella fase cruciale adesso febbraio e marzo secondo i tempi stabiliti dovrebbero essere i due mesi di ascolto e di raccolta delle relazioni che ci arrivano da tutti i punti e poi con questa commissioncina diocesana nel mese di aprile si dovrebbe essere in grado di stendere una relazione da mandare all'Italia alla CEI ma ovviamente noi non intenderemmo fermarci perché mentre la CEI continuerà il suo lavoro a maggio con l'assemblea generale e poi così via poi andrà avanti poiché il cammino sino da italiano invece procede noi vorremmo continuare sfruttando speriamo anche l'estate che è un tempo nella nostra territorio diocesano nel tempo di avvento turistico ma anche di persone che appunto lavorano al nord e tornano per continuare questa fase di ascolto cioè noi vorremmo che la fase di ascolto si protraesse ancora anche su questa base ampia e anche presso persone che non sono proprio frequentanti le nostre parrocchie le nostre strutture ecclesiali vorremmo che si procrastinasse per tutto questo anno cioè fino a dicembre o anche oltre nel frattempo arriveranno poi ulteriori impulsi sul piano nazionale per probabilmente mettere a fuoco e stringere su alcune problematiche e quindi via via porteremo avanti il cammino nazionale direi che questo è quello che facciamo se dovessi misurare per così dire la temperatura è buona è in salute questo cammino a sinodale nella mia diocesi cioè c'è un discreto non dico che c'è entusiasmo ma c'è una curiosità una attenzione una voglia di capire se veramente può funzionare se è quello che se il contributo che ognuno può dare davvero possa raggiungere a buon fine anche perché molte volte io stesso ma altri diciamo bene se siamo anche un po' disincantati rispetto agli anni 70-80 in cui c'era clima di partecipazione documenti da scrivere come diceva il padre Francesco mi pare di aver capito che era lì e così via e poco magari in me poco si è realizzato significa che noi dobbiamo dire o proporre delle cose che sono insomma camminano con le proprie gambe possono camminare con le proprie gambe rispetto al numero di persone oggi disponibili alle sfide oggi che ci sono sul terreno insomma cose realizzabili non sogni e nemmeno utopie ma possibilità concrete altrimenti torniamo sempre alla classica frustrazione del dire ah non si è fatto ah questo si potrebbe si sarebbe potuto frasi e modi di fare e di pensare assolutamente secondo me non corrette a Napoli ci siamo cacciati il pensiero no è chiaro senta eccellenza come si è sviluppata la formazione nell'ambito nella dimensione dell'ascolto noi ci siamo avvalsi dico sul piano nazionale ci siamo avvalsi di un gruppettino al quale inizialmente ho fatto parte anch'io di un piccolo nucleo di meno di dieci persone ovviamente alcune molto esperte dell'università cattolica e non solo anche del sud Italia professionisti insomma delle dinamiche del modo di raccogliere diciamo così il dato le opinioni con i quali si è messo a punto da una parte griglie di domande che applicavano per esempio all'Italia la grande griglia messa a punto dal documento preparatorio del sinodo universale della chiesa universale e dall'altra parte addirittura approntando possibili schemi di incontro cioè abbiamo suggerito per esempio se si fa un gruppo parrocchiale oppure se si fa un gruppo in un luogo di lavoro sia tra un gruppo di bancari in banca tu ci puoi fai mezz'oretta di ascolto o in carcere o tra i poveri in caritas o in un crocicchio di un bar magari eccetera abbiamo anche allestito degli schemi dopodiché abbiamo cercato di online di raccogliere uno o due forse referenti per ogni diocesi quindi 500 persone significa a loro sono state fatte una serie di incontri per spiegare esattamente qual è il ruolo quali tempi e in quali modi dovevano procedere perché raccogliere e riuscire a trasmettere in maniera fedele ciò che emerge non è cosa semplice anche perché devi sintetizzare avendo fatto questo è partita in pieno appunto la fase diocesana della quale io poc'anzi ho dato conto mentre sul piano nazionale continua adesso abbiamo eletto all'ultimo consiglio permanente proprio una sorta di commissioncina non so come chiamarla che ci porterà fino a mi pare settembre prossimo o novembre prossimo quando cioè avremmo consegnato i dati nazionali al sinodo della chiesa universale a Roma e rilanciamo per il continuo invece di quello sinodale italiano e a quel punto bisognerà fare quasi certamente una cernita dei due tre cinque non so quanti punti nevralgici che sono venuti fuori sulle centinaia forse e cercare di riorientare la ricerca di un secondo ascolto in cui possiamo anche ascoltare non soltanto la gente il minuto della gente che è sempre necessario fare ma anche potremmo ascoltare tra virgolette categorie più professionali penso alle scuole di teologia appunto alle associazioni teologiche ai grandi movimenti cioè potremmo ascoltare anche persone tra virgolette più qualificate che possono ragionare meglio sui dati emersi e andare più a fondo su grandi problematiche sulle quali vogliamo dire ma come si faccio degli esempi se dovesse venire fuori fai conto l'impostazione della catechesi dei fanciulli e dell'iniziazione cristiana va bene non va bene così com'è la vogliamo riformare come la riformiamo la stessa sequenza dei sacramenti dell'iniziazione cristiana la ribaltiamo non la ribaltiamo oppure la preparazione al matrimonio è tutta la questione del seguire chi da poco si è sposato e così via la questione della famiglia quindi pastorale familiare va bene non va bene la ribaltiamo come la dobbiamo ribaltare la pastorale giovanile o anche cose un po' più strutturali l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico che oggi è un grandissimo peso soprattutto per i sacerdoti in Italia i quali si lamentano di dover spendere quasi metà del proprio tempo solo per pratiche amministrative e reggere il patrimonio che soprattutto quello degli edifici di culto è sovradimensionato rispetto alle necessità attuali cioè tutti ritrovi con in una diocesi con centinaia o nelle diocesi più grandi anche con migliaia di edifici di culto alcune delle quali onestamente possono non servire più ma intanto ce l'hai se tu non lo curi ti arriva l'ingiunzione del comune o della polizia perché il cornicione è diventato pericoloso quindi non puoi dire non lo faccio perché vai incontro a gravi penalità e così via allora possiamo ridiscutere la questione patrimoniale italiana e di contro abbiamo una grande risorsa qual è l'otto per mille ma è sicura non è sicura e noi stiamo rispondendo a nostra volta davvero facendo rendere il nostro patrimonio in modo tale che abbiamo anche perché ci rendiamo conto che in moltissime diocesi sono legate soltanto al gettito dell'otto per mille o quantomeno anche per il 90% per il 95% al reddito dell'otto per mille e se per caso questo reddito un po' cala la vita delle diocesi che alcune delle quali si sono un po' chiamiamole anchilosate cioè si sono un po' fermate nel cercare di mettere al reddito anche il piccolo o talvolta piccolissimo patrimonio che hanno questo va fatto cioè la comunità cristiana deve autosostentarsi come fa per dire ho detto grandi problematiche che potrebbero andare essere messe sotto la lente di ingrandimento nel 2023 nel 2024 quando andremo verso le grandi decisioni nel 2025 eccellenza diciamo al di là del discorso del patrimonio perché poi lì andiamo a toccare questioni che portano a dei cliché insomma che molti non comprendono ma una questione per esempio che riguarda prettamente proprio la realtà ecclesiale è il fatto della sacramentalizzazione che richiamava prima lei nei primi anni dopo il concilio la CEI si è sforzata anche qui di far uscire fuori tutta una serie di documenti evangelizzazione sacramenti evangelizzazione e tutto questo questo lavorio che è stato fatto sembra essere un po' caduto nel nulla perché poi quel primato che si sarebbe dovuto dare alle evangelizzazioni sembra essersi arenato cioè sembra essere un qualcosa che è rimasto anche lì sui documenti e qui sento diversi vescovi compreso anche il nostro qui di Andrea che alla fine si pongono il problema di dire che cosa dobbiamo fare con l'iniziazione cristiana faccio un esempio perché poi continuiamo a lamentarci che non funziona però poi ogni anno riprendiamo il cammino da dove l'abbiamo lasciato l'anno precedente e quindi ci aspettiamo che dia frutti diversi un albero che è abituato a produrre quei frutti cioè come si può fare cioè che cosa come si può affrontare perché non è una questione secondo me che può essere lasciata poi all'iniziativa del singolo vescovo della singola diocesi no penso di no effettivamente non può essere lasciata noi come lei penso se voi sapete meglio di me comunque in Italia abbiamo scille caribbi da affrontare ovvero sia da una parte il peso di una tradizione cioè di ciò che ci portiamo dietro per rimanere ai sacramenti da lei citati che abbiamo non dico paura ma non vorremmo non desideriamo disperdere o gettare per aria e non lo desideriamo non solo noi pastori ma anche le famiglie non desiderano buttare per aria nel senso che è vero che proprio per battesimi e iniziazione cristiana in alcune parti del paese molte famiglie non la chiedono più e quindi chi la chiede è un valore per cui disfarsi di un valore non mi sembra opportuno ma dall'altra parte abbiamo l'altro lato del risvolto della medaglia caritti che dice come dice lei questa questa sacramentalizzazione chiamiamola quasi di massa soprattutto nel mezzogiorno ma anche qui adesso ci sono numeri che scendono soprattutto per esempio nel sacramento del matrimonio noi abbiamo crolli delle celebrazioni del matrimonio in chiesa numericamente anche più del 10% anno si scende che la sacramentalizzazione di massa non vale più allora questo accade perché c'è ancora una sovrapposizione ma che va sempre più allargandosi e quindi è sempre meno questa sovrapposizione tra chiamiamolo un cristianesimo culturale e un cristianesimo di adesione impegnata di fede diciamo di adesione di convinzione c'è questa sovrapposizione la sfida se è tale è parte di questo cristianesimo culturale è riscattabile verso un cristianesimo di convinzione o è tutto e totalmente culturale per cui nel giro di una generazione lo si perderà completamente e questo significa il 40% degli italiani il 40% perché se un 30% ormai si dichiara totalmente fuori dalla chiesa cattolica dagli schemi della chiesa cattolica un 30% si dichiara dentro in un modo in un altro ma il grosso che è un 40% è culturale allora questo cristianesimo culturale in che misura può essere una risorsa o il nostro la nostra zavorra perché noi ce ne occupiamo in qualche modo come lei ha detto ma poi ce ne occupiamo ma lo perderemo del tutto perderemo tempo non saprei rispondere con facilità quello che mi viene da dire è che però da qui per esempio l'invito del papa a volte più che l'invito tante volte ti senti che è una sorta di spinta a calci che ti dà al dico al cattolicesimo italiano cioè ma noi stessi come lei ha detto sacerdoti personale ecclesiastico e dintorni cioè gli operatori pastorali e simili noi personale ecclesiastico e dintorni abbiamo una mentalità maturato una mens dico una parolaccia non ecclesiocentrica che non sia incentrata nella chiesa lui dice chiesa in uscita giusto il papa dice chiesa in uscita ovvero sia il perno di tutto il nostro impegno è del nostro modo di pensare prima che dell'impegno attivo il perno del nostro modo di pensare è decentrato come come la chiesa come Cristo la vita di Gesù eccetera eccetera dal punto di vista teologico ci siamo arrivati su questi discorsi e anche in qualche modo da parte dei programmi i progetti pastorali dei libri di teologia pastorale ma non mi sembra affatto ancora nella prassi quotidiana di tantissima la maggior parte di noi perché non abbiamo questa formazione e la formazione cioè adesso cambiamo per un attimo registro se una banca si deve aggiornare e aggiornare e cambiare ma ha quel personale o fa un grandissimo aggiornamento sul personale o la banca opererà sempre più o meno in quei modi oppure dovrà operare come è accaduto in molte banche che si sono vendute a banche più grandi o a banche estere le quali sono arrivati 4-5 dirigenti lacrime e sangue molti li hanno buttati via con licenziamenti e prepensionamenti e altri che erano più pronti li hanno fatto cambiare in generale di 5 anni li hanno messo in corsa con nuovi parametri questo non è fattibile nella chiesa né con i prete né con i preti né col personale quindi c'è davvero una questione di aggiornamento chiamiamolo così aggiornamento culturale del clero e degli operatori pastorali in generale e l'aggiornamento io lo chiamo aggiornamento non nel senso di fare dei corsi o di leggersi qualche libro ovviamente no che sarebbe fallimentare ma dico davvero nella capacità di spostare il centro del pensiero e dell'attenzione delle preoccupazioni a mio modo di vedere bisogna entrare soprattutto come dice il papa dice uscita io dico bisogna entrare nel secolo nella quotidian nella vita della gente in ciò che occupa quotidianamente questo mondo con le sue dinamiche con i suoi argomenti gli argomenti che sono quelli del lavoro della società dell'economia della politica noi dobbiamo tornare a entrare in questi campi e non dico noi nel senso che io mi devo mettere pesco a far politica no dico che i miei laici i fedeli laici perché il loro è la loro peculare vocazione e carisma che debbono far sì di essere vero fermento alla società e noi ovviamente però non dobbiamo ragionare e questo vedo che ragioniamo molti dei nostri programmi ancora sono incentrati così noi cerchiamo di acchiappare il più possibile perdonatemi questo termine un po' la bar acchiappare gente per farla lavorare in parrocchia il più possibile perché sforniamo documenti sforniamo programmi di attività che prevedono risorse umane crescenti ma dentro le mura parrocchiali non vale così non funziona io non posso dire ai laici impegnatevi in politica impegnatevi nelle professioni se poi dico mi lamento ah non ho più catechisti ho bisogno di 50 catechisti in più ho bisogno di animatori del sinodo e moltipico e moltipico sempre di più i miei bisogni interni e quei pochi me li porto dentro e mi lamento se non ce l'ho lei capisce che è dove andiamo a finire ecco questo è un circolo vizioso che a mio modo di vedere bisogna avere il coraggio di interrompere certo grazie per la sua la sua testimonianza davvero grazie eccellenza purtroppo grazie grazie anche a voi per avermi invitato la nostra puntata è in chiusura avremmo continuato a confrontarci con lei ma ci saranno sicuramente altre occasioni grazie ancora per la disponibilità grazie a voi spettatori e spettatrici per averci seguito grazie a Barbara Lomuscio per la regia di questa puntata come sempre alla prossima settimana grazie a tutti